Roberto Maroni, bobo per gli amici, è stato l'interprete di quella voglia di cambiamento che sin dagli anni 80 animava le comunità del nord. L'ho sempre fatto con intelligenza, competenza e grande professionalità. L'ho fatto in modo tanto innovativo quanto efficace. Con queste parole l'assessore regionale al bilancio Davide Caparini commenta la scomparsa dell'amico Roberto Maroni, con cui ha condiviso un importante percorso di vita e di politica. L'ex ministro dell'interno, l'ex governatore Lombardo ed ex segretario federale della Lega, si era ritirato dalla scena politica nel 2021 per combattere un tumore a cui purtroppo, alla fine, ha dovuto arrendersi. Sposato con due figli, si è spento nella sua casa nel Varesotto all'età di 67 anni, lasciando un segno indelebile nel partito al quale ha dedicato la sua vita la Lega, che aveva visto nascere con Umberto Bossi, cui si era legato negli anni 80 fino a diventarne il braccio destro. Un partito che ha rappresentato al meglio delle sue forze come segretario federale, dai toni moderati, federalista ma non secessionista, che sapeva parlare alla gente. Roberto Maroni fu tra i 80 leghisti che rappresentarono per la prima volta la Lega in Parlamento nel 1992, poi diventato ministro dell'interno e vicepresidente del Consiglio nel 1994, ministro del lavoro nel 2001 e ancora ministro dell'interno nel 2008, sempre con Silvio Berlusconi, presidente del Consiglio. Ha messo in galera decine di pericolosi mafiosi da decenni latitanti e combattuto la criminalità organizzata con la confisca dei beni che oggi sono diventati caserni, scuole, asili. Si è battuto per la certezza della pena e a lui dobbiamo l'introduzione del carcere obbligatorio per il reato di violenza sessuale e di pedopornografia. A commentare la scomparsa di Roberto Maroni che dal 2013 al 2018 ha ricoperto il suo ultimo incarico politico come presidente della regione Lombardia, in queste ore sono le tante personalità politiche che hanno lavorato con lui, dagli arbori della Lega ai cambiamenti interni al partito in seguito alla grande battaglia che Maroni fece propria contro ogni cerchio magico. Ha fatto la Lega e ha avuto il coraggio e la lungimiranza di cambiarla, mettendola al passo coi tempi e ancora al commento di Caparini che ha ricordato il ruolo che Maroni ha avuto anche in Valle Camonica. Per la Valle ha fatto tanto, tantissimo. A lui dobbiamo tutti gli interventi nelle aree di crisi industriale, il tessile, le forge, le terme e l'imbottigliamento delle acque a boario. A lui dobbiamo decine di aiuti concreti, tangibili, che per molte delle nostre aziende hanno significato continuare a vivere. Con te Bobo abbiamo scritto pagine importanti della politica e dell'economia di questo paese. Anche grazie a te sono orgoglioso del mio lavoro, per la mia gente.